Quindi noi viviamo in un modo condizionato e non vogliamo sforzarci a capire cosa significa vivere incondizionatamente, questo è il problema. E quindi questa coscienza condizionata ha sempre bisogno di una conferma logica, di una ragione per andare avanti. Una persona con questa bramosia non giudica mai la sua qualificazione, questo è la cosa principale. E quindi prenderà consigli da queste scritture. Sila Viswana Chakravati Thakur is not personally present, but he is present through his books. Viswana Chakravati Thakur non è personalmente presente, però è presente attraverso i suoi libri. Bhaktivinoda Thakur is not present, but his books are present. Anche Bhaktivinoda Thakur non è presente personalmente, ma sono presenti i suoi libri. Sì. 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 Se il desiderio di servire a Radhika non appare dentro il mio cuore, allora la mia adorazione Krishna sarà totalmente inutile. come il sole non può essere percepito senza la luce solare, allo stesso modo non posso riconoscere Madhava senza di Radha. coloro che adorano Madhava soltanto hanno una visione imperfetta. E per il loro orgoglio non accettano Shrima Tiradhika. l'orgoglio mondano. Il mio falso ego è così grande che non posso accettare questa relazione. Sì. 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 Si rendetevi con queste persone se volete far apparire il desiderio delle Gopi di Vvardhana all'interno del vostro cuore. se voi sviluppate un orgoglio per essere delle servitrici di Radhika esclusive allora molto velocemente potremo incontrare brahma, siva, narada, ruci, chari, rishis e narayani honor and worship the dust of srimati Radhika's lotus feet tutti i rishi, brahma, narada, siva adorano la polvere dei piedi di srimati Radhika you see, now I say pancata tattva, brahma, narada, srivas and maha visnu, siva and visnu, maha visnu, is advaita acaya maha visnu, is shiva they are praying like this to Chaitanya Nityananda and Gajadara now you see Chaitanya what is Chaitanya Radhika? chi è Chaitanya Radhika? chi è Chaitanya Radhika? chi è Chaitanya Radhika? chi è Chaitanya Radhika? Krishna è all'interno Krishna è all'interno inside you also Krishna everyone, Krishna è all'interno di noi dentro ognuno c'è Krishna why not inside Radhika Krishna will stay allora perché non dovrebbe essere dentro di Radhika? it's not big job non è non è tanto difficile non è una grande cosa per lui we have to see Radhika noi in Chaitanya dobbiamo vedere Radhika easy to make life you have to see Radhika per rendere la nostra vita facile per avere una visione più chiara dobbiamo vedere Chaitanya come Radhika what is Ganyadara? chi è Ganyadara? Radha-sakti Radha-sakti and what is Radha-sakti? cos'è Radha-sakti? bene right to I show you Radha and you see Nityananda Nityananda is a brother of Krishna lui è il fratego di Krishna right and he is he is sister of Radhika ed è anche la sorella di Radhika ananga mangiare e quindi lui ci porterà Radhika perchè è la sorella di Radhika e anche ananga mangiare anche e anche ananga mangiare so So, all our Kṛṣṇa is not important, Mahāviṣṇu or Śrīvāsī is praying, because they are always in prayer for Kṛṣṇa, Narāyana. They are always praying this. It's not very, very great. But here is the greatness that they are looking Radhika. They are praying to Radhika, because this is more, higher than Radha, Kṛṣṇa. It's a Kṛṣṇa, Antarāngā-Shakti. Eternal potency. When you know the Kṛṣṇa, only you know Kṛṣṇa. But the personal thing you cannot understand without Radhika. per comprendere i sentimenti interiori di Kṛṣṇa, li possiamo comprendere soltanto attraverso di Radhika. She will open the vision to understand inner things of Kṛṣṇa. what is the purpose of writing, reading books. This is her mercy. So this is the Chaitanya, is the avatar of Radhika and Kṛṣṇa, Yugar, to come and share this. kīndīc Heitānīya and the avatar combina­ta di Radha e Kṛṣṇa, per poter condividere questo tipo di sentimento. Radha is covering, Krishna is inside. Krishna all'interno e Radha copre Krishna. Questo è il grande regalo di Mahaprabhu. E' importante sapere che questo tipo di avidità non può venire soltanto da uno sforzo personale. Può arrivare soltanto dalla grazia. E questa grazia per sé è la misericordia del Guru. Il Guru è un tatva divino. Il Diksha Guru si spesa in molto diversi formi. Nel nostro Diksha Guru si spande in molte forme, nelle forme degli amici, del padre, della famiglia, dei figli. E anche se il tuo amico vennerà a te e il Diksha Guru, il tuo mestre spirituale, potrà aiutare a te con l'edificio. Ma devi aprire la visione per vedere che la tua instruzione del Guru Dev è venuta con questo. Questo è la visione divina. Questo è la visione divina. Questo è la visione divina. Rada e Krishna appariranno immediatamente all'interno del nostro cuore. Questo è la grande misericordia del Guru. e questo è la visione divina. E questo è la grande misericordia del Guru. Ma il mio sforzo non è successo. 10.000 anni hanno avuto per l'efforto di fare. Il Rama-Avatar. E poi si tratta di Krishna. E la stessa cosa. Come degli yogi che hanno meditato per 10.000 anni, allora dopo hanno potuto ottenere Krishna. Solamente dopo i 10.000 anni. Nel Kali-Yuga, per la grazia del Maestro spirituale, lo puoi ottenere in un momento. Questo è la grazia del Guru Prabhupada. Non è una cosa materiale, è spirituale. Non è una cosa materiale. Non è una cosa materiale, è una cosa materiale. Non è una cosa materiale, è spirituale. Non è una cosa materiale, è spirituale. Lui è presente sempre, non ci lascerà mai. Dobbiamo sempre sentire la sua connessione dentro di noi. Questo è la grazia del Guru Prabhupada. Il momento in cui ti ricordi, ti perdrai la misericordia. Il momento in cui ti ricordi, ogni momento in cui ti riceverai la sua misericordia. Questo è quello. Quando non ci ricordiamo di Lui, allora è come se mettiamo un muro alla misericordia. Ma quando ci ricordiamo di Lui, allora la misericordia può fluire. Può avvenire soltanto per la grazia di Krishna o per la grazia di un Raganuga Bhakta. senza la misericordia non si può raggiungere. La misericordia di Vaishnava è di due tipi. Prakta può essere raggiunta dalle vite precedenti, può arrivare dovuta a delle attività fatte nelle vite precedenti. E' addunica, da questa vita stessa, di attività di questa vita stessa. Prakta significa la misericordia che viene dovuta alla Bhakti che abbiamo svolto nelle vite passate. Come anche nella vita attuale. Se una persona ha un buon samskara dovuta alle buone attività devozionali svolte nelle vite passate e riceve la misericordia di un Vaishnava in questa nascita, allora molto velocemente avvanzerà nella Bhakti. Bene. Può succedere anche che non deve prendere Diksha, come nel caso di Goswami. o se prende Diksha avvanzerà in maniera molto più rapida. What is Diksha? Is the revoking of our spiritual life. Significa riavvivare la nostra identità spirituale. Initiate to the Guru, spiritual master, initiate means is open your self-realization, self-form. When this form will revoke, that is the real time of Diksha. You see here, Narayama. L'iniziazione spirituale significa che il maestro riavviva questa identità spirituale. E quando questa viene evocata, allora quello è il vero momento della Diksha, il vero significato di Diksha. E questo è importante. Se questo non è il vero, cosa è il sadhna? Il sadhna è il sadhna. Il sadhna è il secondo, il questo senso, il questo mente, il questo flesh, il questo sentimento di andare fuori, il desiderio di piacere, il questo senso. Il sadhna significa controllo e andare in. Sì. Il sadhna significa controllo e andare in. Sì. Il suono che controllano il corpo, così può andare all'interno. Sì. È una possibilità per performare quello che vuoi. Ma non hai l'interesse per fare. Sì. 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 con la sua relazione, la connessione divina. Come una mamma che dà molti giocattoli al proprio bambino. Ma quando il bambino inizia a piangere con i giocattoli, allora si chiede, o si chiede per la mamma, e non vuole giocare con i giocattoli, solo nella mia mamma. Però dopo un po' il bambino inizia a piangere, non vuole più giocare con questi giocattoli, vuole solo andare nel grembo della mamma. E' quella la bramosia, che anche se il bambino ha molti giocattoli, il suo desiderio è solamente quello di essere con la mamma, nel grembo con la madre. In braccio. Anche noi abbiamo molti giocattoli, che però non li useremo per il nostro scopo personale, ma per il servizio. Sadhana, questo è il significato di sadhana. Sadhana. Sridharidas Thakur, Sri Svarupdamudar, e Sridharoy Ramananda, non ci hanno detto niente a riguardo della nostra parampara, della loro parampara. Loro hanno ricevuto l'associazione di Mahaprabhu e così hanno potuto raggiungere il loro divino. L'associazione è il desiderio per l'obiettivo e la cosa più importante della nostra vita. L'associazione è il desiderio per l'obiettivo e la cosa più importante della nostra vita. Questo è un esempio di misericordia ottenuta grazie ad attività svolte nelle vite passate. Come un bambino quando prende nascita in una famiglia Vesnava, come Tulasi. il suo padre ha dovuto fare molte cose, ma lei non fa niente. Ma lei ha ricevuto tutto senza fare, certo? Se lei provava a distaccarsi, è molto difficile per lei poter lasciare la devozione. provare, provare e vedre e poi volerai tornare quando i figli venneranno a te perché sai che questo è il modo vero, facerai qualche maledizione per provare e poi volerai tornare per questo. Non basta per te perché hai una realizzazione. Proverai a fare degli errori perché vuoi provare, vuoi fare delle esperienze, però dopo comunque tornerai sempre perché hai delle realizzazioni, già nelle vite passate. Questa è la sucrita della vita passata che abbiamo fatto per la vita passata. Questa è la sua famiglia, Vesnava. Do you understand? I will test you. And Tamakrishna Maharaj says, all right. And Shlana Raja Maharaj says, do you know the meaning of samskara? And Tamakrishna Maharaj says, these are accrued pious assets, purifications and reformatory processes. And Shlana Raja Maharaj says, I will discuss the topic of samskara, so try to understand the meaning. Adesso proverò a parlare dell'argomento del samskara, quindi provo a capire. If one has no previous birth samskara, but has somehow obtained greed by the costless mercy of a qualified guru or Vesnava, se uno non ha un buon samskara dalle vite passate, però allo stesso modo ha ottenuto misericordia da un guru qualificato, da un Vesnava qualificato, questa è chiamata adunika kripa. Questa è chiamata adunika kripa. La misericordia è presente. Ci vuole del tempo per centrare noi stessi. Qualcun devotee is trying, trying, and he cannot settle down, because this life he got the mercy. He has no purva samskara, past life, nothing else. un devoto che prova difficoltà a centrarsi nel proprio servizio e perché ha ottenuto la misericordia solo in questa vita, non ha un buon samskara da vite precedenti. Esatto. He goes up and down, up and down, up and down, up and down, like this, present samskara is trying to settle down. quindi va su e giù il servizio devozionale degli alti e bassi, perché ha ottenuto misericordia in questa vita. Such a person receives Diksha from a Raga Nuga Vaishnava Guru. Una tale persona riceve Diksha da un Rasik Vaishnava o se lui ha ricevuto Diksha prima di aver sviluppato questo desiderio, questa abilità spirituale, then he accepts a Raga Nuga Vaishnava as his Shiksha Guru. Allora dovrà accettare un Raga Nuga Vaishnava come il suo Shiksha Guru. Lui può servire in maniera equanime sia il suo Shiksha Guru che il suo Diksha Guru. Poi in alcuni casi può servire in maniera più vicina il suo Shiksha Guru del suo Diksha Guru. Questo Diksha Guru è colui che dai mantra in accordo a? Tanja Ratrika Vidi. ati è un argomento molto profondo la bhagavata paramparà e la diksha paramparà ci sono due tipi di paramparà che vengono da maaprabhu Srirà Raghunadas Gosvami received diksha from Yadunandana Acarya e afterwards Srirà Chaitanya Mahaprabhu placed him in the hands of Srirà Svarupadamodà e dopo Mahaprabhu l'ha messo nelle mani di Svarupadamodà later when Raghunadas went on Vrindavan he had the association of Srila Sanatana Gosvami and especially of Srila Rupa Gosvami ebbe l'associazione di Srila Rupa Gosvami e Sanatana Gosvami e ultimamente pregò a Rupa Gosvami per il suo servizio finale come descritto nel suo Vilab Kusmanjali dobbiamo leggere questo libro come potrai piangere se non vivi, beloved come potrai piangere? Kusom Angeli significa come i vostri pezzi diventano successivi quando i nostri occhi cominceranno a piangere ascoltando questi passatempi quando il mio cuore comincerà a sciogliersi ascoltando questi passatempi come ecce come come ci buon avut Questo è la preparazione, sai, è l'alfabeto A e B. Ci sono molte cose da conoscere.